Due requisiti fondamentali, efficienza e trasparenza, così il sindaco di Napoli oggi è a margine della riunione della città metropolitana, dopo la nomina del dottor Gabriele Gargano, nuovo amministratore delegato di Sapna, il sistema ambiente provincia di Napoli, la partecipata dell'ente di piazza Matteotti che gestisce lo smaltimento dei 92 comuni dell'area metropolitana. Gargano sostituirà Raffaele Del Giudice dimessosi lo scorso 22 aprile dopo aver guidato Sapna nel momento della nascita della città metropolitana fino ad oggi. A Del Giudice è andato il plauso del sindaco e di tutta la sisse metropolitana per il lavoro fatto a costo zero ma soprattutto per l'ottimizzazione svolta fino ad oggi nella gestione degli stir, della raccolta e della stabilizzazione dei cub. Ai nostri microfoni poi il sindaco di Napoli ha ricordato che il lavoro svolto sui rifiuti in città sarà esteso pian piano anche nell'area della città metropolitana. Oggi l'assemblea di Sapna ha nominato il dottor Gargano amministratore unico in perfetta continuità con il lavoro svolto sinora. Raffaele Del Giudice si è reso dimissionario anche perché si era caricato un impegno enorme perché già fare il presidente di Asia è molto difficile. Gli avevamo chiesto di insieme fare in questa fase anche Sapna. Lui l'ha fatto a titolo gratuito nonostante noi avremmo potuto nominare un CDA o un amministratore unico facendo ricadere costi sull'amministrazione. Ma soprattutto l'ha fatto con una direttiva ben precisa cioè quella di ottimizzare i costi, lavorare con trasparenza, efficientare, lavorare meglio sugli stir, affrontare la questione cube, dare stabilità ai lavoratori della Sapna, lavorare verso l'azienda unica dell'igiene urbana. Il lavoro di Raffaele è stato difficile, sta producendo grandi risultati. Qualcuno si è un po' agitato per tutto questo ma è chiaro che quello che abbiamo fatto a Napoli lo faremo anche nella città metropolitana. Trasparenza, efficienza, un'unica grande azienda è il trasporto pubblico perché crediamo che questa è la strada per tenere fuori affarismi, criminalità organizzata, vecchia politica e una serie di colletti bianchi che a nostro avviso non hanno sempre fatto il loro dovere.